Ciao ragazzi, qui ma te piace? Facciamo amicizia con la matematica. Oggi andiamo a peggiorare la situazione per quanto riguarda le disequazioni fratte. In particolare le andremo a vedere con dei termini al numeratore, al denominatore o magari a tutte e due di grado superiore al primo e anche dei fattori che possono essere delle trappole come abbiamo visto nella scorsa lezione. Al termine poi della lezione nei commenti vi lascerò uno o due esercizi per provare a vedere se avete capito. Cominciamo subito ad affrontare un esercizio che presenta un fattore di grado superiore al primo e in particolare vedremo che il procedimento è del tutto analogo a quelli visti fino adesso, solo che i talcoli diventano magari leggermente più grandi. Qui abbiamo 5 meno 2x fratto x alla seconda più 2x più 1 maggiore di 0. In generale se abbiamo una frazione in cui numeratore o denominatore o entrambi sono di grado superiore al primo, quello che dobbiamo fare è andare intanto a cercare di scomporli. Una volta che sono scomposti sostanzialmente immaginiamo di avere un numeratore, quindi con un solo termine, a denominatore due fattori. Primo fattore, secondo fattore li vado a indicizzare con d1 e d2. Vedete che il risultato del segno di questa frazione, indipendentemente dal fatto se si pone maggiore di 0, maggiore uguale, minore o minore uguale, quindi comunque sempre in forma canonica, dipende dai segni di questi tre fattori. In particolare questa frazione potrebbe essere positiva se questi tre fattori sono tutti e tre positivi, più, 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 oppure se magari ce ne sono due negativi. Il numeratore negativo è uno dei due fattori del denominatore negativo, oppure potrebbe essere che il numeratore è positivo e entrambi i fattori del denominatore sono negativi. Oppure se vogliamo andare a vedere quando questa frazione è negativa, sarà negativa quando sono tutti e tre negativi, o quando uno dei tre, che può essere il numeratore, oppure uno dei due fattori del denominatore è negativo. Ma quindi andare a studiare tutti i possibili casi di segni di questa frazione ad uno ad uno è molto complicato. Allora quello che andremo a fare è, una volta scomposti in fattori, andare a studiare il segno e poi mettere insieme i segni nel grafico dei segni. Questa è la linea generale, poi ci sono sempre delle eccezioni e delle piccole trappole. Una piccola trappola è già presente in questo primo esercizio, andiamo subito a svolgerlo. Allora intanto ci si presenta una frazione, il numeratore è di primo grado, quindi non mi dà grossi problemi. Il denominatore però è di secondo grado. La prima cosa che possiamo notare è che questo denominatore si può scomporre. In particolare quindi avremo 5-2x fratto, sotto è un quadrato di binomio, x più 1 trattonde alla seconda. Questo deve essere maggiore di 0. Attenzione a questo punto perché sotto abbiamo un fattore pericoloso, infatti è un quadrato. Il quadrato è sempre maggiore o uguale di 0. C'è un problema però, non può essere 0. Allora possiamo fare questo. Possiamo buttare via questo denominatore, in quanto il segno lo conosciamo, a patto che però non dia problemi. Ma quando è che dà problemi? quando x più 1 è proprio uguale a 0. Ma siccome in x più 1 uguale a 0 dà problemi, io che devo dire? Che x più 1 deve essere diverso da 0. Questo mi porta a dire che x deve essere diversa da meno 1. Sostanzialmente questa è un'eccezione in cui nella disequazione ho effettivamente fatto le condizioni di esistenza. Questo perché il segno del denominatore è chiaro, è positivo e quindi posso buttarlo via senza cambiare verso, però non posso rischiare comunque che sia 0 perché non so dividere per 0. Quindi ok, lo butto via. Non ho più una disequazione fratta, però mi devo ricordare anche nelle soluzioni finali che x deve essere diverso da meno 1. Questo punto mi rimane soltanto 5 meno 2x maggiore di 0. Vado a spostare il 5 meno 2x maggiore di meno 5. Andiamo a cambiare segno e verso, quindi abbiamo 2x minore di 5, dividiamo per 2 ottenendo x minore di 5 mezzi. A questo punto entra in gioco questo x diverso da meno 1. Allora x minore di 5 mezzi vuol dire che sto prendendo le x più piccole di 2,5, 5 mezzi appunto. Ora prendendo le x più piccole di 2,5 prendo anche il meno 1? Effettivamente sì, perché è più piccolo di 2,5. Allora se dico x minore di 5 mezzi e non dico altro sto prendendo anche il meno 1, cioè sto commettendo un errore. Allora devo aggiungere questo e x diverso da meno 1. Oppure molti libri invece di questa e o la scrivono come e oppure anche con x diverso da meno 1. Così è corretta. Se la soluzione fosse stata invece x per esempio maggiore di 5 mezzi invece di minore, non c'era bisogno di dire x diverso da meno 1 perché tanto prendendo una x più grande di 2,5 sicuramente non sto prendendo il meno 1. Però quando scrivo x minore di 5 mezzi il meno 1 c'è e quindi devo specificare che non lo voglio proprio perché ho semplificato quel denominatore. Qui vedete che abbiamo usato una grande scorciatoia perché alla fine è diventata una disequazione di primo grado però dobbiamo stare molto attenti a non prendere il meno 1. Altrimenti è un errore ed è un errore diffusissimo. Adesso andiamo a prendere una seconda disequazione che viene più canonica. Qui ci troviamo x alla seconda più 8x meno 20 fratto x alla seconda meno 14x più 33 maggiore di 0. Questa è in forma canonica perché appunto un'unica frazione è maggiore di 0 però sia il numeratore che il denominatore sono di secondo grado. Andiamo a vedere come scomporli. Il numeratore è un trinomio speciale. Cerchiamo due numeri la cui somma è pari a 8, termine centrale, e il cui prodotto è pari a meno 20. Ora questi due numeri non sono nient'altro che 10 e meno 2. Vedete che 10 per meno 2 fa meno 20 e 10 meno 2 fa proprio 8. Quindi la scomposizione di questo numeratore non è nient'altro che x più 10 per x meno 2. Fratto, in maniera del tutto analogo, andiamo a vedere il denominatore, cerchiamo due numeri, questa volta la cui somma sia meno 14 e il cui prodotto sia più 33. Ora, due numeri la cui somma fa meno 14 e il cui prodotto sia 33 non sono nient'altro che meno 11 è meno 3. Quindi questo denominatore lo possiamo scomporre come x meno 11 per x meno 3. Tutto questo deve essere maggiore di 0. A questo punto abbiamo ben 4 fattori, due del numeratore, due del denominatore. Li chiamiamo n1, n2, d1 e d2. E ne andiamo a studiare il segno. Quindi n1 è maggiore di 0 quando x più 10 è maggiore di 0, ovvero quando x è maggiore di meno 10. Poi se andiamo a vedere il secondo fattore del numeratore, n2 è maggiore di 0 quando x meno 2 è maggiore di 0, ovvero quando x è maggiore di 2. Poi guardiamo d1, questo è maggiore di 0 quando x meno 11 è maggiore di 0, cioè quando x è maggiore di 11. Infine d2 che è maggiore di 0 quando x meno 3 è maggiore di 0, cioè quando x è maggiore di 3. A questo punto con questi numeri che abbiamo trovato andiamo a costruire la tabella dei segni. Quindi messi in fila i nostri numeri che sono meno 10, 2, 3, 11, tiro giù tutte quattro le linee e scrivo accanto n1, n2, t1 e d2. Adesso andiamo a posizionare i segni. N1 è positivo quando x è maggiore di meno 10, qui c'è il meno 10. Dopo mettiamo il più, tutto ciò che viene dopo ha il più. Prima mettiamo il meno. In conseguenza su meno 10 c'è uno 0. Analogamente il creatore 2 è positivo quando x è maggiore di 2. Qui c'è il 2 positivo dopo il 2, negativo prima del 2, su 2 è 0. Poi d1 positivo dopo l'11, positivo dopo l'11, negativo tutto prima, meno, meno, meno e meno. Su 11 c'è uno 0. Poi di 2 positivo dopo il 3. Quindi dopo il 3 abbiamo 2 più, prima del 3 sono tutti meno e su 3 abbiamo 1 0. Adesso ceriamo la linea orizzontale, andiamo a vedere il risultato. Qui andiamo accanto, possiamo scrivere f, risultato della frazione. Un numero pari di meno ci dà come risultato più. Qui ci sono 3 meno, quindi meno, 2 meno, quindi più, un solo meno, quindi meno, tutti più, quindi più. Andiamo a vedere gli zeri. Gli zeri del numeratore, che sono meno 10 e 2, sono zeri della nostra frazione, quindi 0 e 0. Invece i zeri del denominatore, il 3 e l'11, sono valori in cui la frazione non esiste proprio. A questo punto andiamo a guardare cosa chiedeva la nostra frazione, quindi ora guardiamo qua. C'è scritto maggiore di 0, quindi vogliamo i più, che sono in queste tre fasce. Quindi la soluzione sarà questa prima fascia dove è prima di meno 10, quindi x, scorro un attimo più giù, minore di meno 10. Oppure questo secondo più si trova in mezzo tra il 2 e il 3, quindi scrivo 2 minore di x minore di 3. Oppure quest'ultimo più si trova dopo l'11, quindi x maggiore di 11. Questo è il nostro risultato completo. Diciamo giusto una piccola postilla, a parte questo riquadro bellissimo che mi è venuto. Se qui ci fosse stato maggiore uguale di 0, sarei andato a prendere l'uguale soltanto qui e qua, sul meno 10 e sul 2. Gli altri rimanevano minori o maggiori stretti perché appunto c'era uno 0 del denominatore. Andiamo adesso ad affrontare un ultimo esercizio che non è in forma canonica. Gli abbiamo infatti 1 fratto 2x più 4 meno 1 fratto 2 meno x maggiore o uguale di meno x più 4 fratto 2x più 4. Cosa andiamo a fare? Prima cosa, l'obiettivo è portarci a un'unica frazione maggiore o minore di 0 o maggiore uguale o minore uguale. Quindi spostiamo tutto a sinistra e scomponiamo i denominatori che si possono scomporre. Quindi primo denominatore possiamo raccogliere un 2 che moltiplica x più 2. Poi qua vado a riscrivere meno 1 fratto 2 meno x. Poi spostiamo questa frazione a un meno davanti. Quando sposto diventa più davanti alla frazione senza fare cambi strani. Quindi sopra abbiamo x più 4. Sotto quel 2x più 4 analogamente a quanto fatto con questo 2x più 4 raccogliamo 2 che moltiplica x più 2. Sotto quanto maggiore o uguale di 0. A questo punto i denominatori sono scomposti andiamo a fare il denominatore comune. Il denominatore comune, adesso faccio una linea piuttosto lunga che è 2 per x più 2 per 2 meno x. Che cosa rimane? Il denominatore comune diviso il primo denominatore rimane 2 meno x per 1 2 meno x. Attenti qua almeno. Meno. Il denominatore comune diviso 2 meno x rimane 2 per x più 2. Quindi io scrivo proprio 2 per x più 2. Più. Segno davanti alla frazione. Il denominatore comune diviso 2 per x più 2 rimane 2 meno x che moltiplica quello che c'era qui sopra che è x più 4. Sotto quanto maggiore o uguale di 0. A questo punto il denominatore è già scomposto e possiamo moltiplicare ambo i membri per 2 in maniera tale da togliere questo fattore 2 che tanto è sicuramente positivo quindi non cambia il verso. Vediamo sopra invece con i calcoli che cosa viene fuori. 2 meno x lo riscrivo. Moltiplico. Meno 2x poi meno 2 per 2 meno 4. Abbiamo un prodotto tra due binomi quindi 2x poi 2 per 4 fa più 8. Meno x per x fa meno x alla seconda e meno x per 4 fa meno 4x. Fratto a denominatore rimane sempre x più 2 per 2 meno x. A questo punto andiamo a sommare i simili sopra ottenendo quindi meno x alla seconda meno 5x più 6 fratto x più 2 per 2 meno x maggiore o uguale di 0. Ho sommati simili e ho messo in ordine. Ora per andare a scomporre questo numeratore sarebbe più comodo se si iniziasse con x alla seconda positiva ma quindi dovrei andare a moltiplicare questo numeratore per meno 1. Così facendo gli cambio il segno ma se moltiplico per meno 1 il numeratore sto moltiplicando per meno 1 sostanzialmente la mia frazione e quindi tutto il primo membro. Allora per non modificare niente moltiplico per meno 1 ma anche il secondo membro che comunque rimarrà a 0 però stiamo moltiplicando per un numero negativo meno 1 quindi dobbiamo cambiare verso la nostra frazione. Otteniamo quindi x alla seconda più 5x meno 6. Ho cambiato i segni. Fratto x più 2 per 2 meno x minore o uguale di 0. Ora dobbiamo scomporre il nostro numeratore che è di secondo grado. Se ci fate caso questo numeratore si scompone come somma 5 prodotto meno 6 x più 6 per x meno 1. Andiamo direttamente a sostituirli qui dentro quindi abbiamo x più 6 per x meno 1. A questo punto abbiamo due fattori a numeratore due fattori a denominatore dobbiamo soltanto andare a studiarne i segni n1 n2 di 1 di 2 e metterli insieme nel grafico dei segni. Attenzione al fattore d2 che è un po' pericoloso. Io vi invito a svolgere questo studio del segno da soli e a scrivermi il vostro risultato nei commenti. Fatemi sapere se vi è riuscito. Con questa domanda concludo questa lezione. Nella prossima lezione andremo a vedere i sistemi di disequazioni che possono contenere disequazioni fratte, intere e di grado superiore al primo.